Unione tra Procter & Gamble e Special Olympics. Procter & Gamble è stata fondata nel 1837 da due emigrati europei che sono andati negli Stati Uniti e hanno negli anni poi costruito una delle più importanti aziende del mondo. Oggi Procter & Gamble è one of the most admired companies negli Stati Uniti e ha una reputazione straordinaria e chiaramente sta portando avanti un'alleanza con un'altra organizzazione americana che è stata fondata nel 1968 dalla sorella dell'allora Presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy, Eunice Kennedy. Nel 1968 è partita la prima Olimpiade di Special Olympics a Chicago e ad oggi Special Olympics ha più di 5 milioni di atleti in più di 60 paesi e chiaramente nel mondo sociale è riuscita a fare quello che Procter & Gamble ha fatto nel mondo imprenditoriale.